Ma cosa pensa di tutto questo? Grazie, buongiorno a tutti. Hanno un pezzetto alla volta, questa fabbrica sarà chiusa e non ce ne saremo ancora. Un momentaneo consenso a fatto. Il progetto che può diventare uno strumento per lo Stato per rientrare il militante della cellulare fabbrica del governo. Sicuramente dell'azione perché voglio essere parte, voglio essere il primo. che sono affettanti e importanti e a livello invece nazionale, senza il Parlamento, che è quello del nostro Paese per farlo tornare. Questo viene a fare delle scelte che sono coerenti con questa necessità. Ed è proprio quello della capacità di gestire le materie prime. Noi, ricordo sempre perché abbiamo perso, un anno e mezzo fa, la produzione dell'alluminio per ragioni varie, non è il caso di ricordare. E se dovessimo perdere anche, sai, inox è un settore particolare, quindi di antica regionale, altrettanto tutte cose sacrosante che avete ben espresso.